buongiorno sono luca fontana dmh material ending e in questo video mi voglio soffermare sui sistemi di unificazione ad accumulo le prime due domande che bisogna porsi in questi casi sono le mie macchine di confezionamento sono adatte a questo sistema i miei prodotti possono essere movimentati su questa tipologia di unificatore unificatore di accumulo infatti sono o pneumatici o dotati di cancelli di vario tipo sulle corsie di ingresso che rimangono chiusi in attesa che la sezione di convergenza sia libera una volta aperti i cancelli questi rilasciano le file di prodotti in sequenza questa soluzione è semplice economica ma presenta due importanti prerequisiti in primis i prodotti devono essere in grado di sopportare la pressione durante la fase di accumulo vanno quindi bene scatole vassoio prodotti impilati in confezioni strette in secondo luogo le macchine di confezionamento a valle devono essere in grado di ricevere i prodotti in treno senza essere per questo sollecitate all'uscita dell'unificatore i prodotti sono attaccati uno all'altro ma la velocità del nastro è la stessa di che avrebbero nel caso in cui fossero cadenzati regolarmente e questo spazio è pari alla dimensione del prodotto stesso quindi la macchina a valle deve essere in grado di gestire tale flusso oppure è necessario in qualche maniera normalizzarlo con un nastro di rallentamento e una di accelerazione dopo l'unificazione questa soluzione però richiede più ingombri due motori aggiuntivi una logica di controllo più complessa se desideri avere maggiori informazioni sui nostri prodotti o scoprire come poter ottimizzare il tuo processo di confezionamento consulta il nostro sito internet www.mhmaterialhandling.com i nostri profili facebook e linkedin